Ciao bambini, ho visto il vostro video, mi è piaciuto moltissimo, vi prometto che quando sarò sindaco mi occuperò di voi, degli alberi, del verde, di darvi più ossigeno e poi penserò alla piscina e al campo da calcio. Però dovete farmi una promessa, il campo da calcio lo faccio, ma mi invitate a giocare a pallone con voi. Ciao!